Grazie per aver accettato il nostro invito. Una cosa che volevo chiederti è che noi siamo nel meetup di Peppe Grillo, dalla zona di Chiavari, del Tiguglio. Una domanda che volevo porti era, intanto tu, come sento le tue canzoni, parli sempre di politica, di come va l'Italia. Una domanda, come pensi tu al discorso, dato che c'è stato anche il recente V-Day, sulla libertà di informazione, il tuo pensiero, l'opinione? Ovviamente credo che tutti siano a favore della libertà di informazione. La libertà di informazione non è come viene intesa in Italia, cioè che ognuno può dire quello che vuole, trascendendo dall'oggettività della notizia. Per cui oggi in Italia compri un giornale di destra e avrai la versione di destra. Quella non è il pluralismo, quello è obbedire a un editore di destra o di sinistra. Per me la libertà di informazione è la libertà di dire le cose come stanno, senza nascondersi dietro un dito. Cioè quello che succede magari in posti più fortunati di noi dal punto di vista informativo. Ovviamente ci sono i giornalisti che lo fanno. La mia speranza è che si cominci a raccontare il fatto, cioè quello che avviene realmente, senza aver paura di offendere l'una o l'altra parte politica, questo bipolarismo che oltre ad essere politico è diventato sociale. Questa è la mia speranza, quando vedo un telegiornale scopro che non si parla di un fatto, di un avvenimento, di un qualcosa di concreto, ma su quella cosa che è avvenuta e che non viene spiegata c'è il solito ricamo delle figure politiche e dei loro pareri su quella cosa, lo trovo paradossale. Io sento pareri su cose che non so, che non conosco. E quindi il tentativo di portare libertà nell'informazione, credo che sia un'informazione all'inizio della scala comunicativa e poi bisogna portare libertà ovunque. Io credo che, non vorrei dire stupidaggini, però secondo me, da quello che ho visto in America, per esempio, il paese è citato più volte in maniera sia positiva che negativa, però secondo me è positivo che in America chi deve candidarsi in qualche modo deve sottostare a delle domande anche cattive, perché comunque sono persone che, a maggior ragione in America, hanno in mano un po' le redini del futuro di tutti. Allora, visto che hai parlato di America, allarghiamo un po' l'orizzonte. Forse la domanda è banale, però ti chiedo, secondo te, se riuscirà Obama a portare l'America fuori dal tunnel? Questa è una mia speranza, ovviamente. Certamente è molto grande l'America per poter pensare che potrà andare un giorno e potrà uscire dal tunnel, questa enorme bestiola cosa è stato. Però, al di là di quello che è il sogno americano in cui siamo proiettati noi adesso, cioè noi abbiamo visto file e file chilometriche di persone che si sono svegliate per andare a cercare di cambiare il loro futuro, in qualche modo di prendere una decisione attiva. Questa cosa da noi non c'è, cioè c'è, ma per andare a giocare alla Suprena Lotto, cioè trovi file e file, perché la Suprena Lotto arriva a 100 milioni. Queste cose dobbiamo prendere, cioè la partecipazione attiva comunque, il fatto di non assoprire la propria mente, di essere critici, autocritici, di avere dei filtri, di non prendere sempre tutto per oro colato. Credo che l'informazione abbia un ruolo determinato. Un bel esempio di democrazia, dico, abbiamo avuto. Esatto, la sfiducia nella politica che abbiamo ci porta a questo, cioè il fatto comunque di sapere che sono sempre le stesse facce che andiamo a votare ti porta a non alzarti certamente di buon umore per andare al seggio. Invece tornando, scusa. Tornando tra i problemi di casa nostra, tu sei pugliese, ti chiedo un commento, un piccolo bilancio su questi anni dell'amministrazione Vendola, che è stato un po' un'eccezione nel panorama politico italiano, dalla candidatura poi alla vittoria. Io appoggiai la candidatura di Vendola perché comunque ero stanco in un certo modo di vedere la politica. Certamente, secondo me, io sono entrato in un modello di pensiero strano, per cui secondo me c'è un sistema che difficilmente permette a qualcuno di essere un donkey shot. Sembra che di tante capacità di intervento se ne possano fare alcune, alcune altre no. In questo momento, per esempio, a me sta molto, molto a cuore la faccenda ambientale politica, ma non solo ambientale, ma tutto il marchigegno delle grandi fabbriche, dei grandi industriali che, non vorrei sembrare retorico, ma per poter mantenere il loro profitto su... se ne fregano, insomma, di quello che è, per esempio, la lenta moria degli abitanti che vivono nelle città limitrofe allo stabilimento. Noi abbiamo una percentuale tumorale che è salita in maniera vertiginosa. Stai parlando dell'Ilva di Tanto. Sto parlando dell'Ilva di Tanto, sto parlando dei capi di bestiame che sono stati abbattuti, abbattono migliaia di capi di bestiame, mandando in rovina dei contadini, degli allevatori di bestiame, ma hanno anche la faccia tosta di dire dobbiamo ammazzare queste pecore, questo bestiame, perché è nocivo per l'uomo. Una politica impotente, diciamo, di fronte al grande capitale. Sì, ma più che altro, loro sono nocivi per noi. E chi li ha ammalati? Noi dovremmo abbatterci noi, se vogliamo fare qualcosa di naturale. Ma questo, purtroppo, passa sempre un po' non inosservato, ma davanti ad essere inermi, perché ti rendi conto che non riesci a scardinare in alcun modo questo tipo di sistema. Visto che hai cantato sul palco del V2 Day con Beppe Ghirillo, volevo sapere come è nata l'idea di cantare su quel palco e la canzone che hai cantato Sono un eroe, se, diciamo, Luigi delle Bicocche è un personaggio, diciamo, inventato o è riferito a qualche persona reale. Allora, bisogna fare una premessa. Io stimo Beppe Ghirillo perché la maggior parte delle notizie che ho appreso le ho prese andando nei palasporti a vederlo. Cioè, c'è poco da fare sull'inceneritore, su un certo modo corrotto di interpretare l'imprenditoria. E quindi per me era bello essere lì e in qualche modo condividere il suo modo di fare, comunicazione. Ho portato Sono un eroe che è ispirato a un personaggio che non esiste, nel senso che Luigi delle Bicocche è un personaggio X, nel quale però si riconosce gran parte della popolazione lavorativa italiana che si trova, insomma, nelle situazioni... Ho cercato di scrivere un pezzo senza commuovere, in realtà ha dei momenti, però perché comunque mi piaceva l'idea di disegnare questo personaggio, non tanto di voler fare quello che rappresenta chissà cosa. E voglio essere contemporaneo e rappresentare la realtà. La realtà di fatto è che il primo articolo della Costituzione non ha alcun valore oggi e quindi questo volevo comunicare. E niente. E dell'attività dei meet-up cosa ne pensi? Sono contento perché comunque è una stravaganza, nel senso che è rappresentata una piacevole anomalia nel sistema informativo italiano. Cioè date forza a dei pensieri, senza il bisogno della televisione. Noi ne parliamo spesso, quanto sia colpa della gente che non riflette, che non si interessa alla vita del paese, che tutti dicono gli italiani non frega niente, e quanto sia colpa che la gente non sa le cose, oppure... Cioè quanto è colpa, diciamo, della gente, quanto gli italiani dovrebbero un attimino per esempio andare su internet e cercare di risolvere la situazione. Sì, allora, secondo me c'è sicuramente una grande colpa nel sistema comunicativo. C'è qualche falla, perché non vengono fuori le cose. C'è anche da dire che in tanti anni così le persone si sono abituate a questo tipo di pensiero. Per cui, io ho sempre detto, adesso vedo tre fasi. Quando un politico fa il furfante, fa le leggi per sé, eccetera. C'è la prima fase che è quella di indignazione, no? Che è quella che più o meno, spero, abbiano attraversato molte persone, anche se ci sono quelli che... Poi c'è stata la fase dell'indifferenza, sì, ma basta, non ne parliamo più. E ora c'è la fase dell'emulazione, ma sì, fa bene, l'avrei fatto anch'io, capito? E queste tre fasi sono dovute, secondo me, ad un abbassamento del livello critico, del pensiero di tutti questi anni di cattiva televisione, in fondo, perché la televisione è stato il primo canale informativo, secondo me. Cioè, la gente è quello che apprende dalla televisione, lo apprende ex cattedra, come diceva Pasolini. Cioè, diventa legge. Per cui, se tu in televisione dici una stupidaggine e due secondi dopo dici che non l'hai detta, rimane il fatto che tu non l'hai detta. Anche se in realtà, perché è l'ultima cosa che hai sentito in televisione. Non c'è memoria. Non c'è, non c'è, siamo un po' poco critici. Tu pensi che internet rimarrà libera, tra virgolette, o riuscirà a non imbrigliare anche quella? Pensavo anche a Obama, con la sua compagna, che ha usato molto internet. Spero che rimanga libera. Però sono solo un disilluso, ma spero che rimanga libera. Grazie mille. Grazie mille.